A 16 gradi, giochiamo un po', 15 e 9 dai, riportiamola su, 15 e 9 Quello uno o più lo puoi fare E poi lo puoi toccare questo, anche o toccare questa macchina per farla proprio Per farla accendere Per farla accendere se si può Prima l'avevi fatta accendere? Prima l'avevi fatta accendere Basta poco, basta poco E così almeno Ecco, l'hai visto? Ecco, grazie L'hai visto? Sì, sì, l'ho filmata E io spero anche che puoi andare e venire da qui quando ti pare piace Che non sei costretto sempre a stare qui dentro Stasera ti abbiamo chiamato noi Però lo sai che puoi anche andare via quando ti pare E poi mi fai sapere poi il tipo di arma usavi poi Ecco, mi fai sapere poi a Luciano perché lui è interessato a sapere Va bene? Puoi dare anche la mia energia tranquillamente che ne ho tanta Di sopra, non di sotto 15,9 So che è più difficile Oppure anche in basso le lucine a fondo scala come hai fatto prima, le 5 lucine Sì, quella sarà 15,9 Per la tigurata? No Anche lui è stato bellissimo Ma si Non mi ha mai toccato insieme alla sera quando gli ha chiesto Grazie, grazie Ecco, grazie Bravo, grazie Questo è un omaggio che ci hai fatto Ti ringraziamo per essere entrato in contatto con noi Grazie E per avere condiviso la tua esperienza E la tua energia Grazie Guarda, bello questo Guarda, sta tutto Sarebbe il colmo 15,9 Non chiediamo troppo Non chiediamo Ah, ok E il fatto che tu stia continuando a lasciare acceso lo yo-yo Cavolo, bello, poi è tutta la sera Non lo so, ha proprio ha spostato il coso allora se è così Ha proprio No, si era Ecco, vedi, ecco, vedi Guarda anche lì Contemporaneamente lì La cosa bella è già la seconda volta che lo fa Che fa lampeggiare quella E poi la mette con l'altra Quindi vuol dire che è lì Cioè, teoricamente Sta giocando Sono movimento Sono molto vinto, vibrazioni E beh, lui ha fatto accendere lo yo-yo Muovendolo Sì Confermiamo che non c'erano movimenti delle persone presenti Esatto Ha controllato io con attenzione Quindi su quale siamo a posto Però come vediamo come era prevedibile la temperatura Vai incalando, non vai non aumentando No, vai non aumentando Ora 15,9 lo fa aumentare Però è ancora acceso il... E quello sì Sì, perché per quella bisogna proprio spostare la... Il... La lamella Sì, la lamella Proprio deve piegare la fortissima E poi abbiamo visto negli anni Alcuni rari casi C'è un'interazione velocissima Ma la affiche proprio Con più strumentazioni Sì, ti ringrazio E stasera guarda Ti ringraziamo che sei stato gentile nei nostri confronti E come hai potuto vedere Siamo venuti in pace Non abbiamo visto che hai fatto... No, esiste, grazie Che ci stai salutando Ecco Allora, non è che andiamo via Grazie, vai Grazie per averci salutato Ciao Vai, te l'ho Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti